Piero Accettella, addestratore comportamentista, molto conosciuto tra i cinofili per essere il selezionatore della razza pastore italiano nel suo centro di Cepagatti in provincia di Pescara. Dopo lunghi anni di esperienza Piero Accettella ha scritto un libro, avvalendosi dalla collaborazione di Sergio Marchi, autore e scrittore di narrativa per ragazzi, vincitore del premio Selezione Bancarellino. Un libro che sarà molto utile a chi desidera apprendere quanto necessario per il corretto rapporto tra l'uomo e il suo amico cane. Il libro intitolato Piero Accettella, cinofilia, filosofia di vita, il pastore italiano, è stato presentato nella sala figlia di Iorio della provincia di Pescara per iniziativa del consigliere provinciale Camillo Sborgia. Innanzitutto serve ad avvicinare questo mondo della cinofilia alle persone ma soprattutto perché ha un'importanza vitale, perché valorizza il nostro territorio. Sulle ragioni che hanno motivato la realizzazione del libro ascoltiamo proprio lui, l'esperto Piero Accettella. Dopo tanti anni ho deciso di fare un libro in modo particolare sul pastore italiano perché io sono il papà della razza nonché silenziatore del cane da pastore italiano. Ma maggiormente volevo scrivere in modo semplice dei concetti un po' innovativi che forse vanno un po' a contrasto con quello che è la normativa ufficiale un po' a livello nazionale perlomeno italiana. E oltre a parlare della mia storia che poi è la storia del pastore italiano, interessante abbiamo fatto anche un glossario cinofilo che sarebbe una specie di dizionario tecnico dove uno si può acculturare e praticamente analizzare quello che è il comportamento, il linguaggio praticamente del cane, che contrariamente a quello che si crede il cane parla un linguaggio suo ma non è vero che non parla, quindi quando dicono gli manca solo la parola non sono affatto d'accordo.